Buonasera a tutti o buongiorno o buonanotte, non so quando lo vedrete, comunque buon qualcosa a tutti quanti. Oggi è giunto il momento delle letture del mese, perché questo mese è stato un mese molto fortunato per quel che mi riguarda, perché partita da un romanzo che ora vi farò vedere, sono riuscita a portare a termine otto libri, saggi, romanzi, romanzi brevissimi, tre, insomma tra questi otto sono romanzi davvero davvero brevissimi e nonostante tutto accrescono il numero delle mie letture e io sono molto molto fiera di ciò. Soltanto un mini disclaimer, anzi due, qualora c'è un esserino che mi vola davanti da un'ora praticamente, scusatemi se lo vedete in video deve essere tipo una zanzara. Due, se sentite un rumore strano è il ventilatore in azione perché fa talmente caldo in questa casa che io mi sto sciogliendo e oltretutto la luce frontale è accesa, quindi sto praticamente sciogliendomi su me stessa. Terza cosa, da ora in poi ormai sarà un po' particolare la programmazione del canale, nel senso che ho deciso che non mi devo dare paletti, non mi devo imporre di girare un video a settimana se non ho niente da farvi vedere, non mi devo imporre di leggere in un dato periodo magari costringendomi e non avendo effettivamente voglia di terminare un dato libro o portare a termine le letture che ho iniziato nel mese stesso e tutto questo perché ho paura davvero di ricadere nel blocco del lettore. Mi sono data questa regolata, fra virgolette, perché ho visto che da quando ho cominciato a fare le letture che volevo, quando volevo, senza pensare a una scadenza, mi trovo più a mio agio, leggo più contenta, più facilmente e veramente con soddisfazione. Quindi in questo canale ovviamente resterà aperto naturalmente, però gli appuntamenti saranno fondamentalmente due o tre al mese, non di più. Sarà sicuramente un video acquisti a inizio mese nel caso io abbia comprato qualcosa, cosa che non è avvenuta per il momento, quindi aspetteremo che io torni a casa per le vacanze, ossia dopo domani, avviva, non era programmato però alla fine mi ha messo le vacanze e poi dopo vedrete il video delle letture del mese in corrente naturalmente. Oltre a questo probabilmente ci sarà un video singolo su un libro che ho già letto, ma visto che l'ho letto fra virgolette in collaborazione con altre due amiche, ossia Mistortellino e Stefania di Libri Come il Pane, mi sono detta che era più carino se attendevo loro per fare uscire un video del genere. Ancora non l'ho girato, però quando tutte e tre avremo terminato questo libricino che oggi mi limito a mostrarvi, potrò farvi uscire un video. Detto ciò, finito diciamo tutto questo papiro, penso che possiamo anche cominciare. Il grazie più grande che io devo a questo mese è al primo romanzo letto appunto nel mese di giugno. È stato un libro che mi ha aperto di nuovo un mondo, è come se avesse, non so, forzato il rubinetto della voglia di leggere e che ora torna diciamo a fluire finalmente in me, cosa che mi mancava moltissimo. Comunque il romanzo è La Splendente di Cesare Sinatti. La Splendente è un romanzo storico naturalmente basato diciamo sugli eroi omerici ovviamente dell'Iliade e dell'Odissea, perché si parla anche di Odissea oltre che degli eroi della guerra di Troia, è appunto di Elena. Elena di Sparta, poi Elena di Troia, poi nulla più. La Splendente, la Splendente per cui tutti i principi greci si battono per avere la sua mano, ma lei stessa sceglie Menelao. Menelao colui che restava in disparte, Menelao dal cuore dolce. Un Menelao che è difficile per me immaginarmi, vista l'immagine appunto che la televisione, le opere che ho già letto, il cinema addirittura, mi hanno dato su questo personaggio, su quest'uomo. Lui e il fratello totalmente, veramente diametricalmente opposti l'uno dall'altro, vivono a Sparta e uno dei due vuole, cioè entrambi vogliono veramente avere in sposa Elena, perché Elena è bellissima, ma mentre Menelao la vuole perché è innamorato di lei, Agamemnon ne la vuole perché pensa sarebbe un bellissimo ornamento per la sua persona che potrebbe accrescere il suo potere, il suo prestigio, una volta che sarà tornato a Micene e avrà riconquistato la sua città. Poi insieme a ovviamente la storia canonica della guerra di Troia, che tutti sappiamo come funziona, cosa è successo, ovviamente il film Troi diciamo che è un po' forviante perché l'hanno un po' semplificata, però in generale un pochino tutti conoscono le vicende della guerra di Troia, magari molti meno conoscono il prima, che cosa è successo prima, che cosa ha convinto tutti i principi greci a partire, qual è stata la causa scatenante, reale della guerra di Troia, Paride che era un, come dire, un allevatore, insomma viveva come se fosse un pastore, diciamo nei sobborghi di Troia, che era stato abbandonato a causa di una profezia di sua sorella Cassandra, che alla fine viene tratto in inganno dalle tre più belle idee dell'Olimpo e che insieme praticamente si impegnano a metterlo nei guai. Afrodite che gli promette la donna più bella del mondo e lui quando vede Elena partito in missione e ritornato come figlio orprodigo sotto l'ala di Priamo, si ritrova davanti Elena la splendente, la più bella donna del mondo conosciuto e decide che la vuole, decide assolutamente che la vuole. Il fatto è che la splendente appunto Elena in questo romanzo non è altro che un filo conduttore, perché di lei si parla talmente poco che è quasi solo un'ombra, è come se non esistesse che fosse un'entità quasi al pare di una dea, che non sia tangibile, che non sia reale, cosa che rende molto molto più reali tutti gli altri personaggi che gravitano attorno, persino sua sorella Clitemnestra che è la moglie di Menelao che si vede tolta la figlia Ifigenia e uccisa la figlia Ifigenia che credeva andare in sposa ad Achille Pelide. È una storia meravigliosa che mi ha dato come dire la possibilità di buttare un occhio in generale su tutto il panorama di queste vicende appunto a cui io sono molto molto legata perché mi piacciono davvero tantissimo, è una delle parti più belle secondo me, una delle mitologie più belle, la letteratura greca, antica, omerica per me è la più succulenta, fra virgolette, e ho preso come missione mia personale, della mia persona di sapere, conoscere, leggere il più possibile sull'argomento e grazie mille ancora a questo romanzo, anche se ovviamente non è che potrà mai rispondermi, per avermi dato la possibilità di riscoprire una passione che si era un po' sopita. Appunto alimentando questa passione sopita mi sono lanciata su diversi saggi, sono saggi di uno stesso autore che sinceramente non avevo mai letto ma che trovo secondo me come i saggi perfetti. Saggi perfetti perché? Adesso vi faccio un esempio. I tre libri sono C'era una volta Ulisse, Pandora la prima donna e L'universo, gli dei e gli uomini, tutti e tre di Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant professore francese morto non da molto tempo a Suren qua vicino a me, che sa scrivere per gli altri. Sa scrivere per gli altri ma in modo particolare perché è un uomo secondo me che sa scrivere per chiunque. Per esempio leggendo Pandora la prima donna, ovviamente spiegazione del mito, fra virgolette della creazione della donna da parte degli dei per e poi dopo mandarla sulla terra un po' come piaga, non tanto come premio ma veramente come piaga, viene raccontato, spiegato da Vernant in questo volumetto piccolissimo come se stesse parlando seriamente ad una classe, come se lui fosse in cattedra e io me lo sono vista durante tutta la lettura, passeggiare avanti e indietro per un'aula raccontando perché si pone domande, gli dà le risposte, pone domande talmente semplici che potrei averle fatte io, che potrebbe averle fatto un qualunque altro studente o alunno di un livello medio che potrebbe essere persino un livello superiore. Naturalmente secondo me sono più testi indirizzati agli universitari e lui parlava naturalmente verso gli universitari più che altro, però è stato bellissimo perché di facile comprensione, completo, molto scorrevole e estremamente interessante, cioè ti fa godere di queste opere come il migliore oratore del mondo. A me sarebbe piaciuto da morire sentirlo a parlare perché se una persona scrive in questa maniera parlerà sicuramente ancora meglio. Stessa cosa fa più, scusatemi, più o meno nell'universo gli dei e gli uomini, saggio un pochino più ampio che naturalmente tratta di questi tre argomenti in sé. L'universo perché? Perché ci spiega che cos'era per i greci, insomma, la creazione, com'è avvenuto il loro Big Ben, che cosa è successo di dei e titani e non so, la terra che genera da sola i suoi figli e il cielo che le si posa sopra e insieme generano i titani, i titani che si rivoltano contro il loro padre, insomma, tutti quei miti appunto della loro genesi, fra virgolette, spiegati appunto come se le stesse raccontando semplicemente ad una classe. Gli dei, una volta che si è posto sull'Olimpo Zeus come il dio maggiore, insomma, come il più forte, come il più potente, colui che all'interno ha il potere, insomma, della forza, ovviamente la forza della sua, adesso non mi viene, mi viene in francese, come si chiama? Da vabbè, della saetta, fra virgolette, non mi viene, la folgore, ok? Non soltanto per la forza ma anche per l'intelligenza, per aver inghiottito la sua prima moglie che era in se stessa la scaltrezza, fra virgolette. E poi abbiamo gli uomini, gli uomini, gli eroi, gli eroi che poi non sono mai interamente uomini perché si tratta di semi-dei, si tratta di, della progenie di alcuni dei e dei semplici mortali perché gli dei ci viene spiegato che cedono facilmente alle passioni fisiche e naturalmente da queste passioni fisiche nascono infiniti figli e figlie che poi dopo diventeranno eroi e eroine di tutti i miti dell'antica Grecia. Ultimo, secondo me il più interessante, anche se è comunque piccolino, è C'era una volta Ulisse. C'era una volta Ulisse è non a caso un libricino con un titolo così particolare, perché? Perché è lui stesso che racconta come fossero favole le vicende di Ulisse, Odisseo, insomma, nel periodo del suo vagabondaggio per il ritorno a casa a suo nipote. Le racconta come se fossero favole della buonanotte, a fine di ogni diciamo capitolo ci sono le domande che il bambino gli ha posto perché secondo me lui lo ha fatto davvero, è davvero riuscito a raccontare, a trasformare un'epopea come l'Odissea o un'Odissea come l'Odissea in una favola della buonanotte. Secondo me deve essere una cosa meravigliosa, già leggerlo è stato davvero, davvero interessantissimo, naturalmente molto semplice, però non lascia niente al caso, si vede che è un professore, si vede che sa che cosa vuol dire parlare a una persona che potenzialmente non potrebbe capire quello che tu stai per spiegargli se non lo dicessi in maniera così semplificata ed esplicita. Comunque queste sono fra virgolette le letture di genere, insomma sono i libri, i romanzi, scusatemi mi sono messa in ombra, i libri e i romanzi sulla mitologia greca che ho letto questo mese, ne ho anche altri in lettura un po' alla volta perché visto che sono molto pesanti alcuni di questi saggi ci sto andando coi piedi di piombo intervallandoli con diversi romanzi un pochino più come dire scorrevoli. Sono fuori fuoco secondo voi? Ero fuori fuoco probabilmente, ora va meglio. E comunque ne resta ancora uno da farvi vedere di questo genere, anche se esula un pochino dal genere, cioè dal genere, dalla forma in sé. Il libro è Cassandra di Christa Wolf perché questa è tedesca, ma è tedeschissima. Per Edizioni E.O. le Cicogne credo sia più o meno la collana dei classici, anche se questo è un classico un pochino particolare perché ovviamente io non l'ho mai visto da nessuna parte e non credo sia stato pubblicato da altri se non da Edizioni E.O. Comunque, Edizioncina molto carina, molto grecheggiante con tutti questi motivi. Scusatemi, mi si secca la gola, fa un caldo pazzesco. Comunque, Cassandra, Cassandra la Sibilla, la veggente, Cassandra quella che era ritenuta pericolosa o pazza da coloro che non la conoscevano, ma che in fondo era soltanto una ragazza che aveva ricevuto il dono o, diciamo, la spada di Damocle che è la veggenza, la capacità di vedere accadimenti futuri senza averlo chiesto, fra virgolette. Quello che gli dei magari avrebbero riconosciuto come dono, ma che per lei è piuttosto una disgrazia. In questo romanzo la troviamo ormai alla fine della guerra di Troia, che è stata portata via da Agamennone fino a Micene e lei parla più o meno a se stessa. Io ho un'immagine parecchio precisa di come me la sono immaginata, come se lei fosse seduta in attesa di vedere quale sarebbe stato il suo futuro, in attesa appunto che qualcosa accada e che la riporti, fra virgolette, come se fosse arrivata alla fine della sua esistenza, a ripensare a tutti gli accadimenti passati. È un libro scritto in maniera molto molto complicata, nel senso che è quasi un flusso di pensieri senza esserlo per davvero. Perché come c'è scritto anche nella nota della traduttrice manca praticamente completamente di punteggiatura, cosa che è la traduttrice stessa ad aver aggiunto nei punti corretti in modo che sia una lettura comunque comprensibile e salta da un argomento all'altro, da un pensiero a un'esclamazione, a un dialogo così rapidamente che è difficile tenere il passo se non si abbia inconcentrati. È stata una lettura faticosa, perché non posso nascondere che sia stata una lettura faticosa, ma è stato bello entrare nella testa di questa donna, vedere attraverso i suoi occhi gli accadimenti della guerra di Troia, ma anche precedenti, il suo amore per Enea, la spinta a diventare sacerdotessa di Apollo al posto della sorella che ce l'aveva a morte con lei perché ha preso il suo posto e tutte quelle piccole cose minuzie che non vengono praticamente mai fuori né in altre opere né in programmi televisivi, insomma magari come la serie tv Troi caduta di Troia, oppure il film stesso di cui ovviamente che non parla neanche praticamente di Cassandra, anzi senza praticamente non ne parla proprio, però fa vedere tutte queste cose attraverso i suoi occhi, noi siamo nella sua testa e naturalmente è bello questo scorcio, questo pensiero di vedere attraverso appunto i suoi occhi tutte queste vicende molto particolari. Davvero una bella lettura molto molto faticosa, ma nel complesso decisamente interessante. Poi il romanzo di cui io non posso parlarvi perché ne parleremo insieme con Mistortellino e Stefania è La pezza scarlata di Jack London che ho preso giusto il mese scorso, che ho letto molto in fretta e di cui vi parlerò molto presto. E poi il libro che paradossalmente mi ha preso più tempo nell'essere letto perché volevo leggerlo come si deve, volevo leggerlo concedendogli i giusti tempi, essendo un libro classico, un classico che per il momento insomma è un dispiacere che non sia finito nei grandi classici come potrebbe essere Piccole Donne, come potrebbero essere, non so, la piccola Dorrit, cose del genere. Comunque è di quella categoria di libri secondo me prettamente per ragazze che anche le nostre madri hanno letto alla nostra età e anche molto molto più giovani e il libro è Anna di Tetti Verdi di Lucy Maud Montgomery. Allora ci tengo a dire che durante la lettura ho avuto degli scambi di email con il curatore, ossia Enrico De Luca, che ci tiene a dirmi che l'ultima, ci ha tenuto diciamo a dirmi che nell'ultimo video in cui ho parlato di questo romanzo io dissi che è stata una nuova traduzione. In realtà come mi ha specificato non è in effetti una nuova traduzione, è sì una traduzione, però è una traduzione più fedele, è una traduzione praticamente letterale di ogni forma, ogni parola, ogni espressione che la Montgomery ha voluto mettere all'interno di questo romanzo e che poi è andata persa, diciamo, negli anni con le traduzioni in italiano. Ho trovato in effetti questa trovata, ho trovato questa trovata, ho trovato questa idea molto interessante per il fatto che scorre perfettamente, cioè se la scrittrice, se l'autrice ha dato un'impronta, uno certo tipo di impronta ad un libro e perché voleva che così fosse, chi siamo noi, chi sono i traduttori per cambiare, stravolgere un testo che me lo ricordo molto diverso da quanto io non abbia letto adesso. Era molto più semplice, molto più scorrevole, probabilmente semplificato e forse anche banale nella versione che io ho letto e che mi è stata letta quando ero più piccola. In questo caso si avvicina molto appunto allo stile delle autrici, insomma, che io amo molto, le autrici classiche, ed è qualcosa che secondo me gli dà un valore aggiuntivo. Comunque, di cosa parliamo? Anna, Anna Shirley o Anne, come vorrebbe essere chiamata lei perché è più elegante probabilmente, è un'orfana, un'orfana che in questo paesello fittizio praticamente dell'isola di Prince Edward ci arriva per caso. Attraverso un errore che è stato fatto da un passaparola arriva a casa dei fratelli Cadber, Marilla e Matthew e i due in un modo o in un altro non riescono più a liberarsene, ma non perché lei si sia imposta in un qualche modo, semplicemente perché ha risvegliato in loro la voglia di sorridere, di vivere, li ha un pochino scossi e smossi quando erano ormai due vecchi un pochino, come dire, incupiti. Matthew molto silenzioso, adora sentirla parlare, adora sentirla cianciare per ore perché questa ragazzina ha una dialettica davvero particolare, parla in modo forbito, con paroloni altisonanti e ridondanti, dà nomi più belli alle cose che hanno magari per lei dei nomi banali ed è profondamente e tristemente ferita dal fatto che ha i capelli rossi e che non ha mai sentito di qualcuna che diventata adulta magari ha acquistato un colore differente dal suo ed è una bambina vivace, gioiosa, che ha visto di tutto nella sua vita ma che non si è mai lasciata andare, non si è persa d'animo ed è sinceramente per me un personaggio estremamente fastidioso che ho detestato dall'inizio. Sembra strano sentire questo commento probabilmente dopo le parole spese insomma per raccontarvi un attimino della sua personalità, però io ho un serissimo problema con le persone che fanno le commedie e non mi piacciono le persone che fanno appunto, sì la commedia che fanno teatro, sono molto teatrale appunto, ho dei serissimi problemi anche con i personaggi che sono molto teatrali, quindi non posso dire che questo romanzo mi sia piaciuto per lei, questo romanzo mi è piaciuto in tutto e per tutto, per tutto il resto, mi è piaciuta l'ambientazione, me la immaginavo, mi sono piaciuti i personaggi, qualunque tipo di personaggio tranne Anna, secondo me Anna è una piccola rompiscatole e troppo orgogliosa, avrebbe potuto vivere la sua vita diversamente, avrebbe potuto non essere così chiusa nei confronti delle persone che magari una volta hanno sbagliato tipo Gilbert Blight che è poverina, cioè gli ha detto una volta soltanto tipo carota o pel di carota e questa qua, cioè vabbè, però questi sono i miei pensieri personali, insomma non devono influenzarvi e non devono influenzare neanche me, cose che non fanno perché era da tanto tanto tempo che non mi piaceva un romanzo come mi è piaciuto questo qui, perché mi ha fatto sentire come quando ero un pochino più piccola, perché mi ha fatto appassionare ad una vicenda semplice, ad una vicenda emozionante da un certo punto di vista, una vicenda che comunque noi tutti già conosciamo ma che ho riscoperto con estrema gioia, è davvero bellissimo, è stata una lettura meravigliosa e ringrazio davvero ancora Enrico De Luca perché ha fatto un lavoro splendido e soprattutto perché mi ha detto che saranno pubblicati anche gli altri che è una notizia meravigliosa dopo aver letto questo che è ovviamente il solo che io conosco di tutta la serie perché gli altri sono praticamente introvabili finalmente io potrò leggerli tutti quanti e è stata un'esperienza di lettura gratificante fino all'inverosimile anche se all'inizio ero molto scettica naturalmente, niente, sono dovuta ricredere, ho singhiozzo e mi si secca la bocca fa troppo caldo, mi sono dovuta ricredere in tutto e per tutto perché sinceramente non mi aspettavo nulla di tutto questo e col senno di poi dico che è stato un acquisto giustificato, è stata una bellissima idea questa traduzione molto fedele con tanto di note, le note arricchiscono tantissimo il testo e danno qualche spiegazione in più che non avremo mai avuto probabilmente in altre edizioni ed è comunque anche molto molto carina come edizione, devo essere sincera, mi piacciono queste edizioni, ha una carta molto spessa è solida, la costina non si rovina, è liscia, i colori mi piacciono molto e questo disegno all'acquarello è davvero molto molto bello comunque io sono molto molto contenta, sono riuscita a leggere quello che desideravo leggere non mi sono mai posta dei paletti questo mese e quindi un punto in più per Serpeverde e quindi uno solo, almeno dieci e quindi vorrei quasi evitare di farvi vedere l'ultimo libro perché l'ultimo libro è quello che praticamente abbassa la media del livello, delle culture di questo diciamo drop up perché ho voluto provare a me stessa che i miei gusti erano davvero cambiati allora nel corso del tempo, di questi mesi, ho cominciato a svuotare le librerie ho venduto talmente tanti libri, potete chiedere, chiamare la spiccia, testimone ho davvero venduto talmente tanti di quei romanzi, anche nuovi soltanto perché sapevo che non erano più di mio gusto, che non li avrei apprezzati però uno che mi ha regalato lei, insomma che mi ha passato lei l'ho tenuto l'ho tenuto perché volevo avere l'occasione di leggere qualcosa di estremamente leggero come uno young adult, uno di quei tipici young adult forse anche uno sotto la media degli young adult normali e vedere se in effetti il mio gusto era cambiato in un qualche modo nel profondo o se comunque avrei potuto ancora apprezzare questo genere di lettura la mia risposta è assolutamente no, io non l'apprezzo più questo genere di lettura perché l'ho trovata banale, sciocca, stupida e superficiale comunque la storia, boh, forse carina però ne ha, no dai, è veramente idiota quindi ho letto The Siren di Chiara Cass per rendermi conto che non mi piace più questo genere di lettura probabilmente per un libro del genere anni fa o due anni fa almeno avrei fatto i salti mortali perché sì, perché mi piaceva molto come genere ormai diciamo che l'infatuazione è passata e lui può essere venduto non appena avrò un bagaglio in stiva da 100 kg più o meno perché ho un sacco di libri da mettere via presto o tardi vi farò vedere insomma le prossime cose da vendere e magari non qua, magari su Instagram così e se volete qualcosa poi dopo ve lo mando altrimenti va a finire tutto a libraccio comunque grazie mille per aver avuto pazienza con me negli ultimi mesi sono stata una persona un po' complicata a livello letture parlo male magari mi impapino di più sono meno attenta però spero che le cose cambino quindi noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video ciao